Tutto chiaro? Sì, è chiaro, a che sorse fai, mi raccomando, tu a destra o a sinistra? Ehi, veloci, dacci tutti i soldi, altrimenti spariamo, sparite, spariamo, spariamo, e spariamo. Scommetto che si è spaventata signora, sono ragazzi so, abitano qua a fianco, fanno sempre così, uno fa più l'amministratore, se non fai così non capisco, beh, devi pagare o vuoi sparire pur tu?